Un famoso giornalista si è schierato contro Stefania Orlando. Cosa ha detto? E di chi stiamo parlando? I dettagli a seguire. Stefania Orlando è stata vittima degli insulti di un noto giornalista che nello studio di Pomeriggio 5 si è schierato contro la nota Showgirl. Tutto è cominciato quando Davide Maggio ha definito gli attriti fra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi, cose da lavandaie. La prima delle due si è risentita parecchio a sentirsi apostrofare così e proprio ieri nello studio di Mirta Merlino, ha preteso delle scuse dal giornalista, ospite della trasmissione come lei. Rivolgendosi direttamente a Maggio, Stefania ha esordito dicendo, a me e alla Luzzi ci hai dato delle lavandaie, ma potresti anche chiedermi scusa. In realtà, però, le scuse non sono affatto arrivate, anzi, il giornalista ha ribadito quanto detto precedentemente, il mio discorso Stefania era un discorso generico, il fatto che tu ti senta colpita mi fa pensare che tu ti senta lavandaia. E ancora, che scuse vuoi se hai rispetto per le lavandaie? A questo punto, Stefania Orlando è tornata a inveire contro il giornalista. Non mi sento una lavandaia, ma tu lo hai detto con un tono un po' dispregiativo. Il diretto interessato, infine, ha concluso dicendo, sì sì e lo confermo, che lo ha detto con tono dispregiativo, NDR, non ti chiedo però scusa, è un'opinione. Cosa è successo fra Davide Maggio e Stefania Orlando? Lo scontro fra Stefania Orlando e Davide Maggio non è certo finito con le mancate scuse del giornalista. La showgirl, infatti, ha incalzato il suo interlocutore in questo modo. Ah, lo confermi e non mi chiedi scusa? Sei un po' maleducato. Un conto è un'opinione e un conto è un'offesa, tu l'hai detto con l'accezione negativa del termine. A dare manforte a Stefania ci ha pensato Roberta Ruiu, ospite in studio insieme a lei, ma se non ci fossimo noi tu di che parleresti? Devi arrivare a fine mese pure tu. La provocazione è stata accolta dal giornalista, che proprio dopo queste parole risentendosi profondamente, ha deciso di replicare con sdegno. La replica del giornalista, rispondendo a Roberta Ruiu e Stefania Orlando, il giornalista ha dichiarato, se non parlassi di voi parlerei di altro, vedi io non ho bisogno del grande fratello per andare avanti cara Stefania, a differenza tua. Come non ho bisogno di canticchiare come quell'altra che sta parlando adesso, il riferimento è a Roberta Ruiu, NDR. E ancora, non rimango un maleducato, rimango una persona che ha espresso un'opinione legittima. Per me la vandaia non è un'offesa, se tu la reputi un'offesa è un problema tuo. Le peggiori nemiche delle donne sono le donne. A questo punto, finalmente, ha deciso di intervenire la conduttrice. Mirta Merlino ristabilendo l'ordine ha tuonato in questo modo. Davide parlava di una dinamica in modo critico, se avesse detto Stefania Orlando è una lavandaia lo avrei ripreso pure io.